Ciao a tutti ragazzi, ieri abbiamo fatto anche un video, oggi lo rifaremo con Francesco Ruggero e iscriviamo vai ma che cosa ha detto prima di video vabbè, lascia sta, li metto pronto lui è soffrente ragazzi, è molto forte l'altra volta abbiamo giocato con Davide, abbiamo fatto una bellissima partita adesso giocavo con Francesco se si muovesse ecco, sopravvivenza grande fra ma poi quando l'ho sblocato Francesco non ce l'avevo appena poco fa ragazza ragazza Mi sta un po' all'azza. Grande! Nooo Frank! Perché vuoi usare l'andone a Francesco? So che non gli faccio più. Si, l'ha preso un po', l'ha preso un po'. No, c'è un altro Frank! Frank vs Frank! Noo Grande! Resta Francesco! Resta Francesco! Vai Francesco! Vai Tra! Killa! Killalo Fra! Fai Fra! Piga Zucco! Piga Zucco! Piga Zucco! Nooooo Nooo ok ho preso c'è anche un altro e vabbè tutti e mi dura più tempo credo non lo so vai ecco no 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 vieni qua vieni qua no no mi ha fallato lui e ragazzi abbiamo vinto abbiamo vinto questa battaglia facciamone un'altra se entra Andrea siamo a posto c'è ancora Andrea metto la faccina le impostazioni dovrei cambialone aspettate ragazzi un secondo era il mio vecchio nome inserisci il nuovo nome super piccio come aspetta potessi cavoli eeeh cambio brawler eeeh mi sto Palmo fa troppo ridere ragazzi non so se l'ho fatto da voi mi piace tanto avere palmo come leggendario bello con bordino grande però io però piglia il succo frugge piglia il succo stavolta abbiamo fatto schifo lo so che è più forte il suo ma io pure voglio mettere questo grande dopo cambiamo evento non vi preoccupate facciamo una bella giocata all'evento che c'è oggi è due tasche dell'uomo hai uno ce l'ho più forte ce l'ho via dynamite non morirci grande francesco è fortissimo no 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 nooo ho allargato tantissimo cacchio inizia a allargare non va bene se larga ok stavolta non larga quella ci pensa francesco che pensa a questo è la neve francesco ha creato quella cosa ora è molto provo a camperare ora ho messo anche un'altra frase di questo nuovo aggiornamento vabbè io stavo combattendo con quella arrivata da nulla un un coso come si chiama un bullo un bullo col succo bravi il succo via è arrivato le scuola un bravissimo no 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 ci muore ecco vado a pigliarmi il succo francesco levati di mezzo mamma mia che kill all'ultima è bravo fra ci vuole proprio una scritta bella giocata la prima che bella la nuova mappa io ho appena iniziato francesco stati di mezzo via 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 difesa 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 c'è la super c'è la super c'è la super questa è la zona di ripesa credo הנora andate a difendere la nostra che loro se l'hanno pura più vita vai grandissimi gliela sconfiggiamo Comunque stiamo a vincere Stiamo a vincere Dobbiamo solo fare in modo che l'ora non arrivi Che non arrivi Oh rosa c'era Non l'ho mai vista Perché ha arrivato in difesa Sì No mi sta bagando Sei bagato tutto Guarda come dice Come stai Non lo so Non lo so Non lo so Non lo so No no Lei va qui Ragazzi, questa è l'ultima battaglia Che figa sta musica No, 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 no No, sto dynamite grande france ex no occhio a lui occhio davvero oh stiamo a vincere ragazzi, stiamo a vincere, stiamo a vincere allora ragazzi ho terminato il video ci vediamo al prossimo ciao